Musica Buonasera ai nostri tre spettatori, benvenuti all'appuntamento con l'ultima tribuna elettorale dedicata alle liste che si confronteranno nelle elezioni regionali di domenica prossima 10 febbraio. Nelle precedenti abbiamo incontrato i candidati sorteggiati per le altre tre province. Questa sera chiudiamo con i candidati in provincia di Pescara. Saranno presenti appunto quattro rappresentanti delle liste. In realtà una candidata, quella di Forza Italia, ci raggiungerà più tardi nel corso di questa trasmissione. Ma intanto ne abbiamo tre che si confronteranno appunto rispetto alle domande che saranno uguali come al solito per tutti e avranno tre minuti per rispondere per l'esposizione dei programmi e per innanzitutto una presentazione della loro candidatura e della loro lista. Io li saluto e li ringrazio e li faccio subito esporre appunto le risposte alle domande nell'ordine che è stato sorteggiato inizialmente prima della trasmissione. In particolare ad iniziare a rompere il ghiaccio sarà Carla Tiboni. Buonasera Tiboni, rappresentante della lista Legnini Presidente. Un po' la lista appunto più legata alla figura di Giovanni Legnini. Lei è una persona molto nota a Pescara per le attività non soltanto in campo professionale ma anche in campo della promozione culturale con l'associazione che anima tanti eventi in città. Allora io le chiedo perché ha deciso di scendere in campo, di candidarsi, di accompagnare questa sfida di Giovanni Legnini mettendosi in discussione, avvocato Tiboni. Sì, allora buonasera interi spettatori. Io ringrazio Reteotto per questa opportunità per presentare nuovamente e ulteriormente la lista Legnini. Il motivo della candidatura è innanzitutto Giovanni Legnini, è una persona che ha lavorato per le istituzioni, che ha saputo lavorare per le istituzioni e che ha dimostrato che potrebbe essere e credo sarà un ottimo presidente della regione Abruzzo. Per quanto mi riguarda è stato importante il progetto politico che c'è dietro la lista Legnini perché innanzitutto è un progetto che riguarda la società civile. Si parla tanto della società civile come un concetto astratto. Questa volta finalmente la società civile è scesa in campo con i professionisti, con le persone che quotidianamente lavorano in questa regione, che conoscono i problemi di questa regione, che vogliono parlare dell'Abruzzo e lavorare per l'Abruzzo. Fare politica non è semplice, ognuno di noi lo sa, ma fare una buona politica è possibile. È possibile attraverso, mi viene in mente, certamente non per deformazione professionale, ma perché è scritto nella carta costituzionale, la regione è un organismo legislativo. Bisogna riscrivere le leggi di questa regione, leggi che siano utili per il lavoro, per l'occupazione dei giovani, per la sanità, per le infrastrutture, e per tutto quello che c'è da modificare, da innovare, da rendere migliore, perché l'Abruzzo sia una regione europea. Si è attribuito all'Abruzzo quell'importanza, quelle potenzialità che ha, e che ha dimostrato di poter far valere. Ecco, Avvocato, abbiamo ancora un minuto, le chiedo di parlare un po' del significato della lista del Presidente. La lista del Presidente è una lista che, come ho spiegato prima, fa riferimento proprio a Giovanni Legnini. Allora, noi abbiamo visto in questa campagna elettorale molte persone che si sono dedicate, si sono candidate, si sono dedicate alla politica, magari anche non avendo un lavoro, cioè non svolgendo nemmeno un lavoro, non sapendo nemmeno cosa voglia dire, rapportarsi con la pubblica amministrazione, con le realtà. La lista di Giovanni Legnini è la lista di chi conosce la politica, di chi conosce la macchina amministrativa, di chi conosce come deve funzionare l'apparato amministrativo per far andare avanti e per migliorare l'attività regionale. Grazie. Il turno per la seconda risposta aspetterebbe Forza Italia, ma ripeto, è in arrivo nei nostri studi, quindi andiamo avanti con Domenico Pettinari. Buonasera, bentornato nei nostri studi. Lei è il candidato per la provincia di Vescara della lista del Movimento 5 Stelle, insieme ad altri sei esponenti del partito pentastellato, una lista che ha una chiara connotazione politica, che è quella che sostiene da sola e in maniera diretta la candidata alla presidenza, Sara Marcozzi. Le chiedo ovviamente il motivo di questa candidatura, peraltro suffragata da numerose preferenze nelle regionarie che avete svolto molto prima della individuazione dei nomi dei candidati, ma le chiedo anche il significato politico di un Movimento 5 Stelle che si presenta da sola contro l'esercito dei candidati delle altre liste. Pettinari. Sì, la candidatura per continuare, direttore, le tante battaglie che ho portato avanti nella mia storia. Chi mi conosce sa che da 15 anni, da giovanissimo, da appena ventenne ho portato avanti battaglie a tutela dei diritti del cittadino, impegnato nelle associazioni, volontariato nell'associazionismo, operato all'interno di organizzazioni a tutela delle vittime, dei reati mafiosi, e quindi la politica è stata per me la realizzazione di un sogno, cambiare in meglio la nostra società. Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica, a mio avviso, credibile, che si presenta da sola contro le ammucchiate che stanno dall'altra parte. 250 candidati da una parte, 250 candidati da un'altra parte, tutto il contrario di tutto. Noi siamo soli, unica lista, unico candidato presidente, 29 candidati consiglieri. Perché tre cose, direttore, gli italiani hanno sempre contestato alla politica. Guadagnano troppo, stanno da troppo tempo seduti su quelle poltrone, tanti troppi di loro infrangono le regole, non tutti naturalmente. Allora io dico che il Movimento 5 Stelle ha compiuto la più grande rivoluzione della storia d'Italia perché dal primo giorno che è entrato nelle istituzioni al governo centrale, in consiglio regionale, ci siamo tagliati gli stipendi e lo facciamo solo noi, facciamo due mandati a casa perché non vogliamo che ci siano politici di professione perché la politica è una missione a tempo determinato, non ci sono persone che rubano all'interno del Movimento 5 Stelle, le mere marce le mettiamo alla porta. Noi cinque consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle abbiamo restituito 700 mila euro di stipendi, abbiamo comprato una turbina spazzaneve, 220 mila euro e l'abbiamo donata a Regione Abruzzo. Sto raccontando quello che abbiamo fatto, non quello che faremo. Abbiamo acquistato quattro ambulanze, 75 mila euro l'una, le abbiamo regalate a Regione Abruzzo. Abbiamo risolto i problemi del mondo? No, ma se tutti gli altri consiglieri regionali avessero fatto quello che abbiamo fatto noi, centrodestra e centrosinistra, adesso in Abruzzo avremmo 15 nuove turbine spazzaneve. Ditemi voi se poco, 30 nuove ambulanze e servono le ambulanze perché la rete di urgenza, lei me lo insegna, che è fortemente declassata e depotenziata. La Regione Abruzzo si occupa principalmente di sanità. La sanità è la prima voce di bilancio, l'83% del bilancio regionale è occupato di sanità. Vuol dire che un consiglier regionale per l'83% del suo tempo, ed è quello che ho fatto io, dovrebbe parlare di sanità, poi sicuramente di trasporto, di lavoro, di ambiente, tutto ciò che va a migliorare la vita degli abruzzesi. Per questo mi sono candidato con il Movimento 5 Stelle, perché l'unico partito lo facessero anche gli altri, iniziassero anche gli altri a tagliarsi gli stipendi. Perché questo? Perché dobbiamo riavvicinarci al cittadino che non arriva neanche a mille euro al mese. Per questo il politico che si taglia gli stipendi può capire i veri bisogni e le necessità del cittadino. Per questo è una regola di autoremogolamento interno che ci rende, vuoi o non vuoi, differenti dagli altri. Per me questo è tanto. Questo mi ha fatto avvicinare al Movimento 5 Stelle e credo fortemente che l'unica speranza credibile sia il Movimento 5 Stelle alla guida di Regione Abruzzo. Grazie. Grazie, grazie Pettinari. Il terzo candidato presente nei nostri studi, Donato Di Matteo, buonasera Di Matteo, che rappresenta la lista Abruzzo Insieme. Un movimento civico che lei ha animato prima che vi fosse questa candidatura di Legnini e che poi ha in qualche modo sostenuto questa corsa del candidato del Polo Civico. Perché questa scelta di campo intanto nel lagone elettorale e qual è il valore aggiunto che lei e la sua lista vogliono portare alla coalizione di Legnini? Ma intanto la crisi dei partiti e tra i partiti inserirei pure 5 Stelle perché mi pare di capire che fanno presenze continue ai massimi rappresentanti e questa candidata Presidente ogni tanto si affaccia come faceva qualche altra persona dietro ai... si affaccia per far vedere il suo viso ma non parla mai. quando parla poi dice cose non veritiere. Quindi tutti questi partiti stanno in crisi ma la grande crisi dei partiti qual è? È che non c'è un meccanismo collegiale distribuito di quadri dirigenti nei territori. Tutti partiti padronali, Stodimaio e Di Battista comandano insieme agli astri comici tipo Grillo, i 5 Stelle, Salvini comanda la Lega, il Partito Democratico in questi ultimi anni aveva anche un padrone e quindi c'è la voglia di dire qualcosa di diverso, di far capire che non tutti i padroni sono in grado di esprimere l'esigenza dei territori e quindi parte il movimento civico. Abruzzo insieme è il vero movimento civico che si è creato da qualche anno, che ha tanti amministratori, che ha tanti professionisti, tante persone dentro l'organizzazione e che vuole dire una volta tanto scegliete gli uomini. Io per esempio se fosse un cittadino che vota, che si appresta a votare sceglierei come politico una persona che ha dimostrato col lavoro, con le esperienze di vita le qualità e magari metterei i pettinari a fare l'associazionismo territoriale perché è pure destinato a fare qualcosa a pettinari e quindi ritengo che lui lo possa fare bene e per cui la cognizione della politica è quella di mettere a governare persone autonome, libere e persone che sappiano sappiano fare quello che è la pubblica amministrazione. Io sono molto diffidente di chi utilizza il populismo, le passioni, le paure e non tanto le passioni, le paure, le agitazioni dei cittadini che stanno in difficoltà perché poi quando li vediamo all'opera, dovunque sono andati, questi che cavalcano il populismo e il sovranismo hanno creato soltanto disastri perché la pubblica amministrazione significa avere competenze, avere capacità. Io non vorrei assolutamente e sono certo che non sarà, che questo Abruzzo vada in mano a chi non sa governare. Io penso che il candidato presidente ideale è Giovanni Legnini perché si è messo a capo di un movimento civico allargato, repubblicano, liberale, dove ci sono anche uomini di centrodestra e dove c'è una lista, anche quella mia, che è fatta da tutti i professionisti, nessun consigliere uscente, se non io che l'ho organizzato, per scelta e ci sono tanti professionisti e tante persone del mondo del quotidiano, delle attività quotidiane. Grazie, secondo round Pettinari. Ovviamente parliamo di regione ma è chiaro che voi siete candidati nella circoscrizione di Pescara, allora vi chiedo che ruolo dovrà avere nei prossimi cinque anni nelle politiche di governo della regione Pescara con la sua area metropolitana, anche con questa idea della nuova Pescara che dovrebbe nascere anche concretamente, oltre che istituzionalmente, due di voi sono stati consiglieri regionali e hanno votato quel progetto di legge. Ma il futuro della città nella proiezione regionale, lei come lo interpreta nel suo programma elettorale, Pettinari? Io ho sempre fatto il consigliere regionale, mai il consigliere provinciale e comunale all'interno della regione, credo che il consigliere regionale abbia il dovere di vedere ad ampio spretto la regione Abruzzo. Pescara ha un ruolo importante, importantissimo come ce lo hanno le altre città e come soprattutto ce lo hanno le aree interne, i piccoli comuni che sono stati depredati, devastati da amministrazioni miope che si sono succedute alla guida di regione Abruzzo. Io voglio fare una riflessione importante perché i cittadini dovrebbero credere a chi gli dice che domani farà qualcosa che oggi o ieri non ha fatto. Il centrodestra e il centrosinistra in continuità, due facce della stessa medaglia a mio avviso, hanno avuto già la possibilità e l'opportunità di governare questa regione. Hanno governato la sanità, hanno governato il trasporto pubblico, hanno governato il lavoro, hanno governato l'ambiente ed è sotto gli occhi di tutti. La sanità, centrodestra e centrosinistra in continuità, questa è la priorità di regione Abruzzo, perché competenze in regione Abruzzo. Hanno depotenziato e declassato dieci ospedali, cinque centrodestra prima ed oggi si ripresentano a chiedere i voti del cittadino, cinque centrosinistra dopo e oggi si ripresentano a chiedere i voti del cittadino. Allora mi fate capire perché dovremmo credere a chi ci dice che domani farà un qualcosa che lui stesso ieri al governo della regione non ha fatto. Qui ci sono persone che hanno fatto l'assessore, l'assessore regionale di Matteo con Luciano D'Alfonso, ha votato l'ultimo bilancio. Chi vota a favore l'ultimo bilancio di questa amministrazione non la può criticare. Votare il bilancio significa approvare tutto ciò che ha fatto l'amministrazione e soprattutto nella sanità. Questo significa il voto a favore. Ora non capisco perché domani dovrebbero fare qualcosa di diverso. Noi siamo credibili, l'unica forza, non abbiamo avuto mai la possibilità di governare. Ci mandassero a governare i cittadini, ci mettessero alla prova. Sulla sanità abbiamo idee chiare, la sanità deve essere di prossimità, una sanità rispondente alle vere necessità del territorio, una sanità che non vada a tagliare l'offerta territoriale nei piccoli comuni, nei piccoli comuni che già sono stati depredati da tutto. Una sanità soprattutto che vada a potenziare la medicina territoriale, la rete d'emergenza e urgenza, un trasporto pubblico regionale non che fa tagli ragionieristici e indiscriminati sulla pelle dei cittadini. Perché quest'ultima amministrazione regionale a guida PD due cose ha fatto sul trasporto pubblico. Ha tagliato le corse del 15%, ha aumentato le tariffe del 5%, quindi da bocciare sotto tutti gli aspetti. Ci avevano promesso mari e fiumi puliti, abbiamo mari e fiumi più inguinati. Cioè questo è il quadro devastante. E poi non arrivano i turisti e grazie al turista come fa ad arrivare in Abruzzo se il mare, i fiumi, abbiamo avuto inchieste anche importanti su questo tipo di discorso. Quindi va fatta un potenziamento e soprattutto un marketing territoriale. Ma per fare marketing territoriale dei piccoli comuni, piccoli borghi che a me mi stanno tanto a cuore, la prima cosa che dobbiamo fare è riparare le strade, mettere a posto le strade, strade sicure e poi far conoscere all'esterno quanti borghi belli noi abbiamo. Ma qui non si è fatto né la riparazione delle strade e né il marketing territoriale per far conoscere all'esterno le bellezze e le grandezze del nostro territorio. Ok, seconda risposta, la stessa domanda, è quella di Carla Di Boni della lista Legnini Presidente. Il ruolo di Pescara dell'area metropolitana nella proiezione regionale, nella prossima consigliatura. Sì, io vorrei entrare nel merito della questione. Allora, noi sappiamo benissimo che l'assetto territoriale è molto importante per lo sviluppo di una regione. Si è parlato tanto, c'è stato un referendum nel 2014 in cui oltre 63 mila cittadini hanno detto sì e noi dobbiamo, credo, rispettare questa volontà popolare senza fare populismo. Cosa significa? significa che tre città che ormai anche territorialmente sono unite, Pescara, Spoltore e Montesilvano, abbiano una razionalizzazione dei servizi, della sanità, delle infrastrutture, di tutto ciò che è necessario quotidianamente per far vivere una comunità. Ora, l'elemento ulteriore è questo. Non si tratta di allargare i confini, perché c'è stata una polemica in passato in cui si pensava che si volesse sottrarre il capologo di regione all'Aquila. Non è assolutamente questo. Il capologo di regione rimane l'Aquila, ma i confini non vanno ridisegnati, ma va attribuito una maggiore qualità alle relazioni. Bisogna pensare anche che la costa adriatica ha un'importanza fondamentale per l'economia dell'Abruzzo. Se noi pensiamo, se noi immaginiamo la cartina geografica dell'Adriatico, del mare adriatico, da Ancona a Bari, non ci sono più grossi agglomerati urbani che consentano anche uno sviluppo economico e che abbiano una organizzazione, come ho detto prima, più razionale. Quindi questa espressione referendaria che è stata così massiccia, così massiva, così numerosa, va rispettata e nel programma del Presidente Legnini c'è quindi questa necessità di migliorare anche il rapporto con le aree immediatamente limitrofe a Pescara, a Montesilvano e Spoltone. Questo perché c'è anche un risparmio dal punto di vista economico. È naturale che se l'attività amministrativa non viene svolta da tre comuni, ma viene svolta da un comune più ampliato, ci saranno dei risparmi e quei soldi verranno investiti diversamente. Come diceva il Consigliere Pettinari, verranno investiti nelle infrastrutture, nelle strade, nella sanità. Quindi questo progetto è tra quelli che l'amministrazione Legnini vuole realizzare fortemente. Ripeto, perché c'è la montagna, c'è l'entroterra, ma c'è anche la costa adriatica che ha un'importanza fondamentale nell'economia della Regione Abruzzo. Donato Di Matteo, anche a lei la stessa area tematica in qualche modo di una città metropolitana che deve trovare, oltre che una collocazione istituzionale come è avvenuta con la legge che avete approvato, anche un ruolo in qualche modo reale e positivo per la vita della Regione nei prossimi cinque anni. Io voglio stare dentro il tema che ci è stato richiesto, non voglio fare come Pettinari che non sapendo che cosa rispondere, continuate sempre le solite questioni, perché io mi aspettavo e mi aspetto da chi va a fare il Consigliere regionale che sulle definite domande ci siano risposte chiare. Là si vede la capacità, la competenza e anche il programma vero che una persona ha, perché lei adesso ha questa domanda, io ricomincio a dire della sanità e di altre storie, invece lei mi ha fatto una domanda precisa, risponderò in maniera precisa. La riorganizzazione istituzionale della Regione Abruzzo per forza di cose deve essere legato a aree ampie, io preferirei aree metropolitane e a distretti tipo distretto della montagna, perché se non si fa questo tipo di ragionamento, capite le difficoltà, perché io non condivido tanto solo l'area vasta Pescara-Spoltore, ma io guarderei all'area metropolitana che abbraccia pure Frangaville, Chieti, però lì c'è il problema che non essendo state sciolte le province, quindi si crea la questione che rimane la vecchia norma nazionale che impone un referendum per poter superare, oppure una disposizione che superi i limiti provinciali. E quindi questa è una difficoltà oggettiva che secondo me va superata perché l'Abruzzo ha bisogno di una grande area metropolitana, così come l'entroterra e la montagna ha bisogno di distretto della montagna, cosa che ho presentato da qualche anno e tra i vari quelli che hanno ostacolato questa proposta, non solo c'era il mio amico presidente che mi ha voluto bere in questi 4-5 anni, ma c'era anche Pettinari che ogni volta che vede la mia proposta faceva alleanza col governo regionale per impedire questa. Perché il vero dato, al di là del populismo, per esempio ci sono un Pettinari di Turri che dice il discorso del risparmio economico, non è quello. La gente deve capire che la vera opportunità con la riorganizzazione istituzionale è le dimensioni e i numeri per attingere a finanziamenti sovraregionali, l'efficientamento dell'attività amministrativa, per cui questi sono gli elementi. Se noi offriamo anche al distretto della montagna di avere numeri sufficienti per poter partecipare alle attività europee, è prevesso che adesso l'Europa ha fatto un dispositivo bellissimo che per i prossimi 7 anni, nelle programmazioni, il 5% viene destinato esclusivamente ai piccoli comuni della montagna. Io ci ho lavorato parecchio, ho perso meno tempo con i megafoni, come faceva Pettinari a Rego, ho cercato in Europa di dare un contributo. Poi queste strade, che arrivasse a Toninelli, questo scienziato che non sappia nemmeno che ci desse un bel contributo per l'Abruzzo e poi la nuova amministrazione rifarà le strade. Bene, allora noi ci fermiamo per qualche istante, tra poco riprenderemo in studio per un altro round di domande disposte. Linea alla regia. Siamo tornati in studio in questo round di risposte, il primo a dovre intervenire sarà Donato Di Matteo della lista Abruzzo insieme. Noi abbiamo fatto un sondaggio Di Matteo qualche settimana prima che iniziasse la campagna elettorale tra gli abruzzesi per chiedere quale fosse il tema più sentito. Noi ci aspettavamo risposte sulle infrastrutture, sulle strade di cui avete parlato, sulla sanità su cui ci avete anche detto, accennato qualcosa nelle precedenti risposte. Però la prima risposta prevalente riguardava il lavoro. Avvertito come preoccupazione forte soprattutto dalle famiglie che hanno dei figli che vorrebbero inserirsi nel mondo del lavoro e che in Abruzzo non trovano grandi opportunità. Allora io vi chiedo quali risposte concrete, sapendo che la Regione non ha una competenza esclusiva per realizzare posti di lavoro dall'oggi al domani, però quale responsabilità voi avvertite nel caso diveniate amministratori o nuovamente amministratori di questa Regione personalmente? Cioè che tipo di impegno vi sentite di dare nei prossimi cinque anni da consiglieri regionali per rispondere a questa grande preoccupazione delle famiglie abruzzesi? Di Matteo. Voi tutti i cittadini avete ascoltato in questi giorni quello che ha detto il nostro candidato presidente. Tra l'altro candidato solo presidente non oltre questo consigliere della propria circoscrizione segno che da un lato c'è una qualità della persona che si candida perché chi si candida come presidente poi nella circoscrizione non solo è inqualificabile politicamente ma diventa anche un elemento percepito come un problema, una difficoltà, una paura di perdere per cui deve rimanere per forza a fare il consigliere. Legnini che è una persona dell'istituzione ha scelto di fare il candidato solo a presidente della Regione, non sarebbe stato possibile altre cose. Legnini ha parlato chiaramente sulle questioni del lavoro. Il lavoro è un problema che riguarda intanto la congiuntura internazionale e purtroppo di cose questo governo disastroso ci sta portando verso la recensione così come ha determinato e ha detto in maniera chiara il presidente Conte. Questo non aiuterà, questo problema economico, finanziario della recensione, la possibilità di riprendere attività per il lavoro. Ma la Regione può fare la parte sua. Intanto può fare nel riorganizzare gli enti strumentali che servono. E qui per la prima volta posso dare ragione a pettirare perché così come fanno loro, hanno fatto anche quelli che hanno preceduto loro, loro l'hanno fatto a Roma, si sono impossessati di enti strumentali in maniera scandalosa, senza una programmazione. Gli enti strumentali sono importanti perché? Perché se trasformiamo l'Arap in una società che fa solo l'appaltificio, non è la funzione specifica di quelle ente strumentane, che invece è quello di favorire l'insegnamento delle imprese, di costruire la sburocratizzazione per far accedere facilmente le imprese al nostro abruzzo. Poi c'è la questione accreditizia che è importante, una finanziaria regionale che sostenga le medie e piccole imprese che stanno in difficoltà in Abruzzo. C'è bisogno di sviluppo, per fare sviluppo c'è bisogno di programmazione. Per fare programmazione c'è necessità di una classe al governo adeguata che conosca le realtà, che perlomeno conosca il lavoro. Perché se un'armata a Branca Leone per il 90% è fatta, si presenta come 5 Stelle di gente che non hanno manco un posto di lavoro, questi sono pericolosi perché il grande pericolo nella gestione della questione del lavoro è sta gente che non ha il posto di lavoro. Io direi prima andate a lavorare e poi presentatevi in un contesto regionale perché solo così potete essere qualificati e siete in grado di risolvere le questioni importanti. Lo stesso argomento Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle. Sì, ho appena sentito che noi ci saremmo impossessati di alcuni enti nazionali. Non so se lei è la stessa persona, lo stesso donato di Matteo che ha governato l'ACA, che ha fatto il presidente dell'ACA. Poi mi dirà quante consulenze sono state elargite, consulenze legali e non solo tecniche dall'ACA. Ma mi fermo qui perché i cittadini conoscono perfettamente l'ACA. Mi risponda se lei è stato presidente dell'ACA e seppia l'azienda consortile acquedottistica che ha gestito il servizio idrico integrato della città. Poi vediamo qual è stata la gestione dell'ACA e quali i debiti di questa azienda e quali le consulenze erogate all'esterno. E chiudo qui il paragrafo. Lavoro, lavoro importantissimo. Si stava dicendo prima creare e finanziare le piccole e medie imprese. Ebbene, iniziassero a fare quello che facciamo noi. La sfida la lancio qui. Prendete l'impegno che da domani vi tagliate gli stipendi come abbiamo fatto noi e finanziate le piccole e medie imprese. Noi, col taglio degli stipendi solo dall'opposizione, cinque consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, in minoranza, in opposizione, col taglio dei nostri stipendi. Abbiamo creato un fondo per finanziare la piccola e medie imprese abruzzese e sono nate 90 piccole e medie imprese grazie al contributo al finanziamento del fondo costituito dal Movimento 5 Stelle. È poco? Si è poco perché tutti gli altri non l'hanno mai fatto, perché gli altri non hanno mai costituito questo fondo. Allora, se tutti gli altri avessero fatto questo, noi adesso in Regione Abuzzo avremmo 400, 500 nuove piccole e medie imprese. È il lavoro. È un piccolo gesto, sì, un piccolo gesto. Risolve i problemi. Non risolve i problemi, ma un segnale concreto di una forza politica che prima fa le cose e poi le racconta a chi fa populismo vero e fa filosofia sulla politica. Poi, caro direttore, per il lavoro bisogna naturalmente attrarre fondi. Questi signori in amministrazione regionale hanno attratto esclusivamente il 7% dei finanziamenti europei, lasciando indietro il 97%. Non solo. Lotta agli sprechi, uno dei punti essenziali del nostro programma, con una lotta serrata nei confronti degli sprechi. E quanti ne abbiamo raccontati assieme su Rete 8 di sprechi? Recuperiamo decine e decine di milioni di euro da destinare sul lavoro. In questo momento, mentre parliamo, abbiamo ancora la PET-TAC parcheggiata di fronte all'ospedale di Pescara, che ci costa 8 mila euro al giorno di affitto, un macchinario per la diagnostica oncologica, da lontano 2007. Abbiamo speso, hanno speso 15 milioni di euro di affitto per un'apparecchiatura che, udite udite, costa un milione e mezzo di euro ad acquistarla. 15 milioni gettati dalla finestra e le amministrazioni regionali che si sono succedute al governo in Regione Abruzzo. Prima centrodestra e poi centrosinistra. Tagliamo gli sprechi, questo farà, questa è la promessa nostra. Taglieremo gli sprechi, colpiremo ogni tipo di privilegio, ogni tipo di clientelismo, ogni tipo di favoritismo. Non ci saranno più persone che possono dirsi graziate da un'entità superiore, un'entità divina con noi. Valorizzeremo le grandi professionalità che hanno sempre messo al servizio della collettività la loro professionalità. Questo farà il Movimento 5 Stelle per il lavoro. Grazie. Carla Tiboni, lista Legnini, Presidente. Sì, io ho ascoltato quello che è stato detto. Vorrei però che al di là degli slogan si affrontasse con concretezza il problema del lavoro. Il problema del lavoro è un problema gravissimo che chiunque governerà dovrà risolvere. E direi l'aspetto deteriore di questo problema riguarda i giovani, i ragazzi. Io sono abbinata con un ragazzo giovanissimo, Paolo Amicarelli, che anche lui è stato costretto ad andare via dall'Abruzzo per poter lavorare. Allora, il discorso, torniamo sempre all'aspetto amministrativo della Regione. Allora, la Regione è un organismo legislativo. Devono essere fatte le leggi che consentano di creare posti di lavoro. Come bisogna fare per creare posti di lavoro? Bisogna innanzitutto aiutare le imprese. Io, consigliere Pettinari, è sicuramente lodevole quello che lei ha detto, cioè di avere aiutato delle piccole imprese. Ma qui dobbiamo disancorarci dal assistenzialismo. Noi non vogliamo che i nostri ragazzi siano gli stesi su un divano con la card del reddito di cittadinanza in attesa di un lavoro. Noi vogliamo che i nostri ragazzi facciano parte di una Regione in cui le imprese che vanno aiutate e finanziate siano pronte a fare formazione e a creare posti di lavoro, evidentemente con dei vantaggi che poi avranno anche sotto questo punto di vista. Non ci sono solo i ragazzi, ci sono anche gli ultra quarantenni, queste persone che hanno perso il posto di lavoro oggi e che vengono per la maggior parte delle volte rifiutate perché vengono considerate vecchie. Ora bisogna agire anche nei confronti di questa fetta di lavoratori che non può aspettare l'età pensionabile, ammesso che abbia i contributi versati per poter usufruire della pensione. Allora il discorso è questo. Il lavoro non si crea attraverso gli slogan. Il lavoro si crea individuando nel territorio quali sono le realtà che possono, ripeto, le realtà imprenditoriali, non ci dimentichiamo che l'Abruzzo ha una realtà imprenditoriale importantissima, con molte multinazionali che lavorano qui, quindi con una normativa, con delle leggi riscritte che abbiano per primi, come vantaggio primario, il lavoro per i ragazzi, per i giovani, per gli ultra quarantenni. Ora questo non è il, non è una, non prendiamo questo, questo concetto dal libro delle fiabe, lo prendiamo dalla nostra Costituzione che prevede al primo posto il lavoro. Grazie. Grazie. Altro tema che vorrei farvi introdurre direttamente da voi candidati ed è un tema in qualche modo a piacere perché sto per chiedervi cosa il giorno in cui siederete sui banchi del Consiglio regionale avvertite personalmente come priorità. Che cosa scrivereste voi nel vostro primo disegno di legge a firma di Matteo, Pettinario, Tiboni? Quale sarebbe la prima legge che vi piacerebbe venisse approvata in Abruzzo e aiutasse a crescere questa regione e che portasse la vostra firma? Il primo a rispondere qui è Donato Di Matteo. Ma allora io ho quattro leggi. In maggioranza o in minoranza? Io ho quattro leggi, no, io mi candido per stare in maggioranza, non ho bisogno dello stipendio come qualche consigliere che volesse entrare per forza in consiglio. Io sono candidato per stare in maggioranza, sono certo che vinceremo per cui altrimenti non mi sarei candidato perché non è che voglio andare a fare il consigliere per forza. La prima riforma che, ce ne sono quattro, dicevo che stanno ferme, riforme strutturali della regione, le ho fatte io. Sono fermi là grazie alla combinazione maggioranza e minoranza che hanno impedito che norme importanti che sono poi le finalità della regione venissero realizzate. La prima cosa che farei, per quello che ho visto in questa compagine regionale e per quello che sento adesso, premesso che io posso garantire, se Pettinari volete a prendere carte, che fino a quando, fine 2004 io sono stato presidente della regione, avevamo avanzi, avevamo avanzi per 13 miliardi di vecchie lire, quindi non ho mai, io non so che è successo dopo, sicuramente ci sono stati degli errori, ma fino a quando sono stati io questo non succedeva. La prima legge che avrei fatto, che farei, è quella di fare una legge, quella di questa identità, perché sennò lasciamo un campo a delle persone che continuamente dicono fesserie non corrispondente alla verità. Allora, diamo i numeri. Quanto costa un consigliere regionale in Abruzzo? 700-800 mila Euro per la legislatura. Pettinari ha dato 150 mila Euro, il che significa che con le identità aggiuntive che lui ha, solo con quello, quindi in media circa 2 mila Euro al mese ha destinato a questa, è un'iniziativa ingommabile, ci sono altri come me e io farei arrivare mille associazioni, l'ha fatto in maniera senza farsi pubblicità, l'ha fatto quotidianamente con il servizio, ma c'è una vera riforma da fare, quella dell'identità del consigliere regionale. L'identità del consigliere regionale che io ho già proposto, così finiamo con queste stupidaggini che si dice da parte di persone, è regato al reddito d'ingresso. Io avevo fatto una proposta di legge che chi percepisce somme superiore alle 10 mila Euro o alle 8 mila Euro prendesse il massimo 6 mila Euro omnicomprensivo. Quelli che arrivano alla regione con reddito zero, tipo Pettinari, dovrebbero prendere il massimo di 3 mila Euro, perché se quelli si tolgono, uno che prende i 10 mila Euro, si toglie i 4 mila Euro e si dedica alla politica, uno che è disoccupato con 2-3 mila Euro ci deve vengare, tutto quello che gli viene dato più, in più deve cedere all'attività sociale, tutto quello che prende in più, questa è la riforma dell'identità che deve essere fatta, non quello di aboliamo le altre storie, questa è la cosa più importante, vedrai che Pettinari non lo voterà, perché con 3 mila Euro al mese lui si è abituato a un ritmo diverso e non potrà reggere il confronto, perché non è che c'è altre attività da poter sviluppare. Carla Tiboni. Sì, io avrei due leggi, due proposte nella testa che mi venivano in mente questa mattina mentre stavo arrivando qui in televisione. La prima è, come ho già detto prima, una legge sul lavoro e sulle imprese. Noi dobbiamo ascoltare gli interlocutori che fanno parte del mondo del lavoro, noi dobbiamo ascoltare i lavoratori ma dobbiamo ascoltare anche le imprese. E quindi una legge che vada incontro a chi impegna, a chi rischia, a chi ogni giorno porta in atto il rischio di impresa per sviluppare la formazione, i posti di lavoro, per creare realtà lavorative che aiutino i ragazzi, aiutino le persone che hanno bisogno di lavorare, concretamente passando attraverso la formazione, in breve non dovendo più andare fuori dall'Abruzzo né per lavorare né per formarsi, perché questo è un aspetto grave in questo momento della nostra regione, che io reputo grave perlomeno. Poi c'è un'altra proposta che, diciamo, mi riguarda per quello che quotidianamente faccio oltre al mio lavoro di avvocato ed è quello di dedicarmi alla cultura. Io credo che l'Abruzzo abbia dimostrato di avere realtà culturali molto importanti, ma abbia dimostrato anche che la cultura, coniugata con il turismo, può essere un elemento importante di veicolazione lavorativa ed economica. Per fare questo però è necessario che ci sia una razionalizzazione delle attività culturali attraverso i progetti. Bisogna proporre progetti culturali, progetti culturali che all'interno devono avere l'individuazione e io direi anche l'arricchimento occupazionale e quindi sviluppare e trarre dal territorio e dalla tradizione culturale abruzzese tutti quegli elementi che possano far sviluppare ulteriormente nella vostra regione e la portino finalmente a livelli europei. Quell'Europa, anche se da Roma arrivano segnali contrastanti, che c'è e che fortunatamente continuerà ad esserci. Grazie. Domenico Mettinari, quale sarebbe la sua prima proposta di legge della nuova consigliatura o magari il ripescaggio di una che, come è accaduto nel caso di Matteo, non ha avuto modo di far arrivare al traguardo nella precedente? Sì, grazie direttore. Io le dico subito quali sono le nostre priorità, diverse proposte di legge presentate dal sottoscritto, bocciate perché in opposizione, ma non posso non rilevare che accanto a me io ho due candidati che fanno parte del centro-sinistra, di una coalizione che è già governato la regione Abruzzo. Io lo chiedo a me stesso. Tante belle parole sto sentendo, lo state sentendo anche voi, ma perché dovrei credere che domani faranno un qualcosa di diverso rispetto a quello che oggi la loro coalizione sta facendo in regione Abruzzo? Loro governano, stanno governando il centro-sinistra nel mentre noi stiamo parlando. Governa la regione Abruzzo. Quindi questo dicevo all'inizio. loro hanno già governato, governano attualmente e stanno dicendo che faranno cose. Perché non l'hanno fatto ieri? Perché il centro-sinistra, il PD sta governando la regione Abruzzo? Uno. Due. Cosa farà il Movimento 5 Stelle? Cosa ha già fatto, le dico, per il lavoro? Lo ripeto, abbiamo costituito un fondo per le piccole e medie imprese e quindi abbiamo dimostrato, seppur in opposizione, di tagliarci quello che ci spetta di diritto. Cosa che non hanno fatto gli altri perché quello spetta di diritto? E le abbiamo messo sul lavoro, sull'impresa. Quindi se io l'ho fatto, pur solamente stando in opposizione, senza aver intaccato il pubblico denaro delle casse di regione Abruzzo, ma il mio stipendio, quante cose in più potrei fare al governo di regione Abruzzo? Quindi come priorità noi, con il taglio del nostro stipendio, abbiamo voluto sostenere le imprese. Quindi io sto raccontando quello che già abbiamo fatto in regione, non quello che faremo e che non ho fatto pur stando al governo di regione. Questa è la dissonanza, la discordanza. Siamo due cose completamente diverse. Lì c'è un centro-sinistra, vecchio, che ha già governato, che c'è stato. Massimo rispetto perché li rispetta, ci mancherebbe altro. Ma noi non abbiamo mai governato. Quindi sostegno alle imprese, la prima cosa, quello che già abbiamo fatto dall'opposizione. Abbiamo messo i soldi, ma i soldi nostri, quindi la dimostrazione plastica, dimostrazione scientifica e matematica, che chi ci mette del proprio, ci mette i propri soldi per il sostegno alle imprese. È molto credibile. Pensiamo quanto più potrei fare al governo di regione Abruzzo, quanto più potrei fare governando regione Abruzzo. Già l'ho fatto dall'opposizione, quindi soldi, fondi freschi sul potenziamento delle imprese, salvaguardia delle imprese, sostegno alle piccole imprese, non solo. Qualche parola sul reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza andrà al padre che a 55 anni perde il lavoro con tre figli a carico e con la moglie a carico, italiano. Vogliamo lasciarlo in abbandono? Vogliamo lasciarlo via? Il reddito di cittadinanza non andrà le persone per farle stare a bivaccare su una poltrona di casa, ma tu percepisci il reddito e ti metti a lavorare per il comune, diventi un dipendente comunale. Così funziona il reddito di cittadinanza, perché vai a fare i lavori di pubblica utilità, il sindaco ti chiama, ti fa sfalciare l'erba, ti fa pulire il parco, ti fa andare a lavorare nella biblioteca comunale, quindi non si regalano soldi e soprattutto non andranno a criminali pruri, pregiudicati e delinquenti, perché ci sono gli anticorpi nella norma e con la riforma dei centri per l'impiego, lì è la vera rivoluzione per incrociare la domanda con l'offerta e trovare lavoro a tanti cittadini italiani, cosa che non ha mai fatto nessuno nell'Italia. Grazie. Grazie, grazie a Pettinari. Tra poco torneremo in studio per l'ultimo round di domande e risposte. Linea alla regia. Allora, siamo arrivati alla parte conclusiva di questa tribuna elettorale, il primo intervento in risposta alla mia prossima domanda sarà dell'Avvocato Carla Tiboni e della lista Legnini Presidente. A tutti chiedo, a proposito di questo, perché secondo lei sarà il suo candidato Presidente a vincere le elezioni? Allora, io vorrei per dovere di correttezza, credo, fare una precisazione. Io non ho governato, non appartengo al centro-sinistra, appartengo ad una lista civica, non ho seduto sugli scrani del Consiglio regionale nella scorsa legislatura, quindi credo consigliere Pettinari che attribuirmi di far parte di chi ha governato precedentemente questa regione non sia corretto, ma non perché io debba emettere un giudizio di qualità, ma perché credo che gli spettatori debbano sapere realmente come stanno le cose. Un'altra precisazione, quando parlate del reddito di cittadinanza dovreste per onestà, per onestà intellettuale, morale e politica, spiegare dove andrete a prendere i soldi. Chiudo questa parentesi perché abbiamo avuto la discesa dei, ne hanno chiamati i big, non so se sia un eufemismo, ma che sono venuti qui a parlare in Abruzzo soltanto di istanze a livello nazionale. Nessuno ha parlato dell'Abruzzo, Giovanni Legnini lo ha fatto, è l'unico che lo ha fatto, è l'unico che ha parlato dei problemi dell'Abruzzo, è l'unico che ha parlato della terra d'Abruzzo, del territorio degli abruzzesi, è l'unico che ha proposto soluzioni per i problemi che oggi l'Abruzzo ha, i problemi della costa, i problemi dell'entroterra, i problemi del terremoto, non ce lo dimentichiamo, la nostra terra ha ancora una ferita aperta. Quindi è colui che ha, che si è calato nella realtà regionale. Io credo che sia importante avere persone che quando parlino durante la campagna elettorale propongano le soluzioni di quando siederanno nel posto apicale della regione, quali sono queste soluzioni e se siano concretamente realizzabili. Il credo ha bisogno di un movente, il movente di Giovanni Legnini della lista, Legnini presidente, mio personale, è quello di lavorare per l'Abruzzo, l'Abruzzo e gli abruzzesi meritano questo, meritano di andare oltre rispetto a ciò che già hanno, meritano il lavoro, meritano la sanità, meritano le infrastrutture, meritano l'occupazione per i giovani, meritano che i ragazzi non vadano più fuori, meritano un stipendio, meritano anche che i consiglieri regionali si vedano dimezzati gli stipendi e perché no? Non è un peccato dire che il politico può guadagnare di meno, il problema è che il politico deve essere competente e Giovanni Legnini rispetto agli altri competitor lo è. Domenico Pettinari, perché Sara Marcozzi diventerà presidente della regione Abruzzo nella notte tra il 10 e l'11 febbraio. Sì, chiedo scusa direttore, l'unico che avevo capito male è che Giovanni Legnini e l'avvocato Tiboni, ho appena capito che non stanno nel centro-sinistra, quindi ero l'unico che avevo capito che si collocassero nel centro-sinistra, mi ha stato appena detto che non sono di centro-sinistra, non ho capito bene. Vabbè, avevo capito male io, quindi su questo faccio una mia culpa. Però, ecco, io credo, io ho parlato prima di coalizione di centro-sinistra, ho detto che le persone che stanno alla mia sinistra stanno nella coalizione di centro-sinistra. Non mi ha detto che hanno governato, io non ho governato. C'è chi ha governato, c'è chi ha governato. Bene, allora il discorso è questo, crede nel Movimento 5 Stelle, ho detto prima, un'unica lista, abbiamo 29 candidati, abbiamo le idee chiare, un programma chiaro, dall'altra parte abbiamo 250 candidati e 250 candidati. I cittadini sanno quanta opposizione io ho fatto a Luciano D'Alfonso. Non vorrei spezzare una lancia nei confronti di Luciano D'Alfonso, ma perché devo sentire dal centro-sinistra dire che l'Abruzzo merita di più e perché non l'avete fatto adesso che state governando col centro-sinistra? Merita di più? Non meritava di più. Non merita adesso di più. Non meritava ieri di più. State governando, io dico al centro-sinistra parlo, al centro-sinistra. Sta governando il centro-sinistra. Esponenti che si collocano all'interno della coalizione centro-sinistra e mi dicono domani faremo, domani meritano di più. Ma avete un presidente attuale, un vicepresidente Lolli, state governando, io non riesco proprio a capirlo. Aiutatemi a capire, non riesco a capire perché dovrei credervi che domani farete qualcosa che oggi non avete fatto. Spiegatemi questo, solo questo, solo questo. Poi se vi dissociate, se c'è qualcuno che si dissocia dall'attuale presidente coalizione centro-sinistra, ve lo dico, il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica credibile a mio avviso perché si presenta con un unico programma, non ha dieci partiti da una parte. Dieci partiti è tutto il contrario di tutto. Centro-destra non sono stati neanche in grado di trovare un candidato presidente qui, l'hanno pescato a Roma, un senatore romano che è poi stato investito di fare il candidato presidente. All'interno del centro-destra ci sono partiti, la Lega che sceglie di stare con Berlusconi, con Fratelli d'Italia, con l'Udc, con tutti quei partiti, persone all'interno del centro-destra che hanno già governato con Gianni Chiodi. Ci sono autorevolissimi esponenti che già hanno governato Regione Abruzzo con Gianni Chiodi che oggi si ripropongono all'interno del centro-destra e quello è il vecchio, non è il nuovo a mio avviso. Nel centro-sinistra anche ci sono autorevolissimi personaggi che hanno governato con Luciano D'Alfonso e mi riferisco con loro, se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, l'attuale assessore regionale alla sanità e al bilancio Silvio Paolucci è candidato con voi, ha governato già Regione Abruzzo, quindi quando io dico che c'è il vecchio, il vecchio significa colui che ha già governato la Regione Abruzzo. Noi siamo il nuovo, siamo gli unici che non hanno mai avuto questa possibilità, questa opportunità e chiediamo con forza ai cittadini abruzzesi di darci questa opportunità, soprattutto guardando i nostri programmi per una sanità giusta, trasporto pubblico vicino ai cittadini, aree interne, piccoli comuni, grande sostegno ai piccoli comuni, alle imprese, al lavoro, per un ambiente sano e pulito, quante volte l'abbiamo sentito dagli altri, hanno avuto la possibilità però non l'hanno fatto, quindi solo per, basterebbe solo questo per dare la possibilità a una forza politica che non l'ha mai avuta la possibilità di governare. Donato Di Matteo, per quale motivo gli abruzzesi daranno la fiducia a Giovanni Legnini che vincerà le elezioni, secondo le vostre aspettative, il 10 di febbraio? Perché in parte, anzi in gran parte l'ha detto già l'avvocato Tiboni che sinceramente esprime delle considerazioni molto positive, lei non si deve preoccupare, l'avvocato, perché Pettinari è un provocatore, quello di mestiere lo fa quotidianamente e spesso dice le cose al contrario di come stanno, in realtà io sono stato un oppositore di questa amministrazione regionale, non sono stato io a complimentarmi nell'ultima seduta con l'assessore della sanità, ma l'ha fatto Pettinari, addirittura si, si va a sentire le registrazioni, non ce l'ho stato io assolutamente perché ho avuto una posizione ferma da 4 anni sempre, perché deve essere eletto? Per forza verrà eletto, è sicuro che verrà eletto, così come è sicuro che 5 Stelle farà quarto dopo Casa Pauno, il nostro candidato presidente Giovanni Regnini è un abruzzese vero che ha fatto un lungo percorso nelle istituzioni, ha dimostrato competenza, ha dimostrato attaccamento alla sua terra e ha messo in piedi una squadra che non è il centro-sinistra, è una squadra fatta di tanti professionisti, di tante liste civiche che rappresentano un mondo ampio, allargato del civismo abruzzese, che vuole essere una novità assoluta rispetto a quello che è stato, noi in questa compagine siamo la novità assoluta e dietro al presidente ci sono candidati in carne d'os abruzzese, conosciuti, io non riesco a capire chi sono i candidati di 5 Stelle, chi sono i candidati della Lega, arrivano queste persone da Roma, pensano che qui si vota Salvini, no, qui si vota i candidati che stanno nella lista della Lega, ci sono alcuni che forse non sono usciti mai a catastro nell'anagrafe dei cittadini abruzzesi. Allora io dico, com'è possibile che non si voti il vero presidente che la regione può esprimere, che non viene da Roma, non è come quello del centro-destra, che non è fatta da una squadra che non hanno nessuna esperienza e competenza, perché colleghini ce ne stanno tanti che hanno esperienza e competenza, e com'è possibile votare invece in alternativa una presidente che si è candidata pure al suo collegio, segno che già ha capito che perderà, per cui pur di non perdere il ruolo di consigliere regionale si è candidata nel suo collegio. Già per questo i cittadini abruzzesi non vi devono votare, così come non devono votare il centro-destra perché ha un partito preponderante, prepotente, arrogante, che ha una serie di candidati sconosciuti e secondo me inadatti alla pubblica amministrazione, qui non verrà a governare Salvini, anzi se vince il centro-destra, Salvini colonizzerà insieme al presidente venuto da Roma tutto ciò che c'è da colonizzare qua in Abruzzo. Legnini sarà l'unica prospettiva certa, guai l'Abruzzo se perde questa opportunità. Grazie Di Matteo, ultimo round, il primo a rispondere qui sarà Pettinari. Il tema è molto caldo, sta venendo fuori anche in quest'ultima settimana di campagna elettorale e anche quello dell'astenzionismo, quindi vi chiediamo di fare un appello agli elettori per la lista, per la preferenza, ma anche e soprattutto la partecipazione al voto in un sistema elettorale che è un po' particolare quello per le regionali in cui non c'è il voto disgiunto, quindi insomma vi diamo questi tre minuti a disposizione a ciascuno di voi per spiegare bene parlando nella telecamera ai vostri tre spettatori come fare per votare, se li avete convinti, per la vostra lista dove mettere la croce e come comportarsi nel seggio elettorale, perché è molto importante e bisogna evitare di sbagliare in qualche modo. Sì, grazie direttore, io sono sempre più convinto anche alla luce di questa trasmissione che bisogna votare il Movimento 5 Stelle, perché è chiaro, trasparente, un'unica lista, vendi noi candidati, un candidato presidente Sara Marcozzi, quindi si barra la lista, è importante questo. Io sono invece più confuso perché oggi, ieri pensavo ci fosse anche un centrosinistra e oggi scopro che quel centrosinistra non si chiama centrosinistra, più, quindi sono confuso, io mi preoccupo per il loro elettorato, per l'elettorato di centrosinistra che è un po' così, confuso, dice dove siamo noi, quindi vorrei chiedere a loro, spiegatemi anche a me, perché io vado in giro, devo parlare con i cittadini, cosa è, dove sta il centrosinistra, dove lo trovo se voi mi dite che non vi collocate più nel centrosinistra, questo mi è stato detto adesso da Donato di Matteo. Allora si voterà il 10 febbraio, è l'ultima speranza di questa regione, perché gli altri li abbiamo visti, gli altri hanno già governato, centrodestra prima, centrosinistra dopo, per me sono due facce della stessa medaglia, in continuità hanno potuto governare la sanità, il trasporto pubblico, il lavoro, l'ambiente e se ci troviamo così come ci troviamo, sicuramente non per colpa del Movimento 5 Stelle che non ha mai avuto la possibilità di governare Regione Abruzzo, ma è loro che ci sono stati, hanno governato, c'è qualcuno che dirà che hanno governato bene, benissimo, rispetto tutte le opinioni, ma se c'è chi dice che la sanità non va bene, il trasporto non va bene, c'è un problema di ambiente, ebbè non si può tornare a votare le stesse persone, quindi da questa parte troverete solo il Movimento 5 Stelle. Dall'altra parte tante liste, una cozzaglia sia nel centrodestra che nel centrosinistra, una cosa la condivido, che la Lega si è alleata con Berlusconi in Abruzzo, chi vota Lega non vota Salvini, vota coloro che sono all'interno della lista della Lega e andate a vedere nome e cognome, persone rispettabili, ognuno può pensarla come vuole, ma sono persone che già hanno governato, c'è un Presidente della Commissione Sanità con Gianni Chiodi che si ripresenta con la Lega, ha già governato, la sanità oggi si ripresenta, ha già governato con Gianni Chiodi, già lo abbiamo visto con il centrodestra, c'è un altro che faceva il Presidente del quartiere di Pescara, ha già governato, il nostro comune, ecco, questo sono loro. Da questa parte c'è il Movimento 5 Stelle, le idee chiare per una sanità vicino al cittadino, un trasporto pubblico che funzioni, basta tagli, lotta agli sprechi, concorsi pubblici per merito, meritocrazia, inseriamo nelle commissioni esaminatrice persone di comprovata serietà, esperienza, onestà, con la schiena dritta, con noi non ci saranno più le persone che dicono, ma io non entro in un ente pubblico a livello generale perché non conosco nessuno, non devi conoscere nessuno, devi essere bravo, i tanti giovani laureati con 110 lode avranno la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici e entrare, questo è il Movimento 5 Stelle, noi ci siamo, ci saremo sempre, grazie ai cittadini che ci vorranno accordare la loro fiducia. Grazie, Carla Tiboni, ecco, istruzioni per il voto, intanto l'appello alla partecipazione e al voto per questa lista, che è la lista Legnini-Presidente, che credo sia importante anche saper identificare nell'ambito della scheda elettorale, credo con lo sfondo bianco e con tutte le istruzioni utili che si sente di dare in questi ultimi tre minuti. Prima di queste istruzioni io vorrei rivolgermi agli abruzzesi, carissimi abruzzesi, domenica si scrive una pagina della storia della nostra regione e tutto ciò che avete ascoltato questa sera è importante perché si è parlato della vostra regione, si è parlato del vostro futuro, siate attenti però, dimostrate la vostra intelligenza valutando ciò che vi è stato detto senza fondamenta e da come vi è stato detto. Il Movimento 5 Stelle poco fa ha parlato di occupazione, di sanità, ha detto parole ma non ci ha detto come farà a realizzare i propri progetti, non lo ha mai detto in tutta la campagna elettorale, candidato presidente del Movimento 5 Stelle non ci ha detto come farà a governare questa regione. Per quanto riguarda il centrodestra preferiremmo avere un abruzzese che ci governi e non un romano prestato all'Abruzzo che non sa nemmeno dov'è il lago di Bomba. Giovanni Legnini invece è un abruzzese, è un abruzzese che ha fatto il proprio percorso professionale nell'ambito delle istituzioni, ha imparato come si amministra, ha imparato a capire la macchina amministrativa e a trasporre questa sua esperienza nelle attività che sino ad oggi ha svolto. Essere presidenti di una regione non è semplice, amministrare una regione è difficilissimo perché non si tratta soltanto di emanare le leggi, non si tratta soltanto di promettere posti di lavoro, non si tratta soltanto di dire noi faremo le strade, faremo gli ospedali, vi daremo tutto quello che ci chiedete. No, governare è una regione non è creare il paese dei balocchi, il paese dei balocchi non esiste, esiste la regione Abruzzo che è una regione che ha potenzialità enormi, chi ha governato prima ribadisco io non ero nel governo precedente, è stato fatto quello che è stato fatto, voi avete votato, evidentemente il voto popolare va sempre rispettato, saranno i posteri che daranno la sentenza di ciò che è stato fatto o meno, ma io vi pregherei di essere molto attenti il 10 febbraio a ciò che vedrete sulla vostra scheda elettorale. Vedrete da una parte la lista di Legnini presidente, sette liste civiche, non si era mai verificato, la società civile si è alzata, cammina insieme alla politica e vuole che la politica cambi, vuole che questa regione cambi, troverete sette liste a fianco il nome del presidente Legnini, potrete esprimere due voti, non nei confronti di due uomini o di due donne, ma di un uomo e di una donna e dovrete necessariamente vergare il nominativo del presidente e scrivere il candidato consigliere. Vi invito a votare Giovanni Legnini per un Abruzzo migliore. Grazie, Donato Di Matteo. Io sono confinto che la grande novità è quella che diceva prima l'avvocato Tibboni, la grande rivoluzione per cui i territori hanno messo in piedi una serie di liste civiche, che è l'asse fondante di questa proposta nostra, che vede a capo Legnini. Guardate, questa è la vera novità. Per la prima volta si è preso coscienza che dai territori devono partire. Io per esempio ho fatto una lista che si chiama Abruzzo insieme, una bella lista. Ci sono tutte persone che vengono dalla vita quotidiana, professionisti, persone impiegate. Andate a vedere i nostri nominativi. Io partecipo sempre all'assemblea che si fanno nelle varie realtà. Non vado con i megafoni, sono sempre super affollati, segno che questi professionisti o persone che stanno in lista sono individuati come dei veri riferimenti per i territori. Questa è la grande novità che per la prima volta si presenta all'Abruzzo. E questo è l'argomento che mi ha convinto a rimpegnarmi in questa battaglia insieme al fatto che il candidato presidente era Giovanni Legnini, un uomo competente, un amico, una persona che io stimo tantissimo. Questi sono stati due elementi. D'altro canto, le proposte degli altri. Intanto i chietini dovranno votare non solo la Marcozzi presidente, dovranno mettere preferenza a Marcozzi consiglieri. Ma ve lo immaginate che uno viene detto come presidente e consiglieri. Che disastro! È una vergogna! È una vergogna! Questa cosa non si è vista mai, manca ai tempi dei soviet russi. Mai una cosa del genere. Come si può votare una compagine che già si presenta in questa maniera? Per cui io penso che non è possibile, e l'altra alternativa l'ho detto prima, ma signori belli, questi vengono di Mali, di Battista, vogliono far credere che loro verrebbero a governare l'Abruzzo. Ma lì ci saranno quelle persone, cioè io penso che nella lista di Pettinale, salvo Pettinale, solo lui è conosciuto, gli altri sono persone che hanno, non lo so manco che cosa potrebbero fare. E allora governerebbero loro mettendo persone che praticamente si nascondono dentro quelle facce lì, che tra l'altro sono pure confusionari tra di loro e che hanno creato un sacco di casine a livello nazionale col governo, che non durerà più i prossimi 5-6 mesi. Adesso si dovranno piazzare alle europee, la Lega e Di Maio, Salvini e Di Maio, quindi stanno a tentare di mantenere il fronte tra mille liti, ma dopo le europee queste se ne vanno a casa, per cui voi avrete un governo che torna a casa perché non è in grado di governare e avrete una regione Abruzzo di persone, se decidesse di votare, io credo che non sarà così, che non si conosce manca chi sono e che praticamente si sono nascosti dietro, tant'è che ho saputo che Salvini ha fatto la cosa, mettete solo il mio viso, cancellate tutti i candidati. Questo lo faceva Berlusconi nel 1994. Grazie, grazie Di Matteo, grazie ai nostri candidati, ricordo che a questa tribuna avrebbe dovuto partecipare anche Forza Italia, c'è stato ovviamente un problema organizzativo da parte loro e noi ce ne dispiaciamo. Grazie a tutti voi per averci seguiti e buon proseguimento con i nostri programmi. Vi ricordo che venerdì alle ore 21 vi trasmetteremo gli ultimi 4 appelli dei candidati alla Presidenza della Regione. Arrivederci e buona serata. Grazie a tutti.